Io l'ho conosciuto per la prima volta in carcere perché da deputata radicale nella scorsa legislatura ho girato tutte le carceri italiane ma in particolare a Re Bibbia ci sono andata più volte con Marco Pannella proprio per incontrare Totò Cuffaro e la sua esperienza di detenzione gli hanno fatto fare tutti e cinque gli anni della condanna senza avere un beneficio, cosa che danno a tutti gli altri detenuti e lui li ha fatti con una dignità che veramente è d'esempio e in carcere lui è stato capace di aiutare tantissimi detenuti, quindi una persona straordinaria io poi ho avuto anche il piacere di assistere ad alcune conversazioni fra Marco Pannella e Totò Cuffaro dove parlavano pensate di religiosità perché in modo diverso però hanno un rapporto profondo di persone che riescono a scavare dentro se stesse Numerose le ispezioni da lei effettuate nelle carceri italiane, le chiedo ma il carcere rieduca? Mi permetto di fare un esempio, in Italia abbiamo un solo carcere che corrisponde ai criteri della nostra Costituzione si trova a Milano a Bollate, in quel carcere chi ha la fortuna di andarci si registra una recidiva cioè un ritorno poi a delinquere intorno al 10%, in tutte le altre strutture penitenziarie italiane la recidiva è dell'85%, questo che cosa vuol dire? Che se il carcere corrisponde ai criteri di rieducazione previsti dalla nostra Costituzione ha l'efficacia, ma cosa è veramente importante? Sono le pene alternative il problema è che il detenuto è abbandonato a se stesso in condizioni a volte che tolgono la dignità alla persona detenuta e in carcere si incattivisce, anziché progredire quando esce è pronto a ritornare alla sua vita anche perché non gli vengono date alternative e possibilità Grazie Grazie.